Baganessi, cosa ci può anticipare di questo piano di governo del territorio? Allora sì, sabato in Consiglio Comunale andremo ad approvare in via definitiva il piano di governo del territorio, questo strumento urbanistico che permette di allineare anche il Comune di Gromo con le normative più attuali in materia di pianificazione urbanistica. Ricordiamo che all'inizio anno è stato adottato, c'è stata la fase appunto in cui tutti i cittadini hanno potuto esprimere le loro osservazioni e adesso sabato andremo a dedurre, andremo a recepire o meno quelle che sono state le osservazioni dei cittadini, quindi andare verso la fase conclusiva di questo iter burocratico, così con la pubblicazione del Bull riusciremo poi ad avere lo strumento pienamente efficace e funzionante. Per quanto riguarda le linee programmatiche del PGT, vediamo che lo spirito principale dello strumento è stato quello comunque di diminuire le volumetrie edificabili, è stato quello di concentrare in aree già urbanizzabili, quindi lasciare spazio ai prati, comunque lasciare spazio al verde che già si trova sul nostro territorio. Questo strumento ci ha permesso anche di proseguire con quella che era la pianificazione adottata dal PRG, cioè il PRG è uno strumento un po' rigido con delle volumetrie a nostro giudizio elevate, per cui si è mantenuto, si è proseguito con la pianificazione urbanistica, che comunque già era stata fatta in precedenza dagli altri amministratori, cercando di correggere il tiro, quindi diminuendo e concentrando, perché abbiamo circa il 13% in meno di aree urbanizzabili rispetto a quelle che erano le previsioni precedenti, quindi questo è un dato sicuramente significativo, che era vantaggio della collettività di Gromo che comunque avrà questi prati. Il tutto comunque tenendo in considerazione quello che erano state le edificazioni precedenti, ovvero chi, il cittadino che comunque per tutta una serie di anni ha pagato le tasse lì sul proprio terreno, si vede comunque dei crediti volumetrici, potrà usufruire di queste volumetrie e destinarle in altre aree appunto di atterraggio, sempre che sono stati comunque previsti, quindi secondo quella che è la previsione globale dello strumento. E riguardo invece le osservazioni che avete ricevuto? Allora, per quanto riguarda le osservazioni che avete ricevuto, in principio comunque sono state tutte osservazioni puntuali, cui andremo a prendere in considerazione appunto, e ci sono comunque delle scelte che sono state recepite, sono piccoli accorgimenti tecnici che comunque permettono di migliorare quello che era lo strumento, quindi comunque la popolazione ha contribuito in modo attivo a migliorare e a eventualmente correggere il tiro su determinati aspetti puntuali che magari non erano definiti in maniera precisa. Alcune osservazioni comunque lasciano anche spazio a quelle che sono le osservazioni più di carattere generale dello strumento.